La nostra posizione attualmente è questa, Dema non si candida alle politiche del 2018, ma non vuol dire che Dema andrà al mare. Noi guardiamo con molta attenzione quello che accade e che accadrà nelle prossime settimane. Innanzitutto abbiamo il primo candidato premier, a noi non spetta a giudicare come è stato scelto tutto il dibattito, noi abbiamo altri metodi, altre forme, altri contenuti, ma adesso interessa capire se c'è la volontà di dialogo da parte di Di Maio e se il programma del Movimento 5 Stelle è un programma veramente di rottura e di innovazione. Così come siamo interessati in questo momento al dialogo col governo, perché noi siamo una forza di governo e col governo stiamo dialogando e c'è un momento in cui capiremo tante cose, che è quello della manovra economico-finanziaria, che interessa il governo, coinvolge il governo, ma coinvolge anche il Parlamento e quindi vedremo quali saranno le posizioni di Di Maio come leader del Movimento 5 Stelle che si candida a guidare il Paese e come vicepresidente della Camera dei Deputati. Siamo soddisfatti del fatto che registriamo una volontà di dialogo con la città di Napoli, segno che la città di Napoli rappresenta una realtà autonoma, è l'unica realtà autonoma forte di governo del nostro Paese. Da sei anni governiamo una delle città più belle e più difficili del mondo, senza compromesso morale, senza soldi, in modo onesto e che sotto gli occhi di tutti e che ormai nel mondo si avverte città che attraverso la cultura si sta riscattando, con tutte le sue sofferenze e tutti i suoi problemi. E registriamo questo fatto che ci sia l'attenzione da parte di chi si candida a guidare il Paese nei prossimi anni di dialogare con Napoli e chiaramente con chi la guida, con la nostra maggioranza e quindi noi come maggioranzi o come sindaco e anche come Movimento DEMA siamo molto interessati e saremo molto attenti sulle evoluzioni che si metteranno in campo nelle prossime settimane, da qui a Natale soprattutto e poi quando inizierà la volata per le politiche da dopo la pausa natalizia.